La sconfitta con il Mantova dà il via ad una serie incredibile di risultati utili consecutivi. I gialloblu di Iachini vincono, soffrendo a Vicenza, e dopo la pausa continuano la striscia positiva centrando successi fondamentali nella corsa promozione, come a Bari, con una rimonta sensazionale. Sotto per 2-0 in meno di 10 minuti, il Lecchievo reagisce, vince 3-2 grazie al gol di Junque e alla doppietta di Pellissini. Contro le cosiddette piccole, la squadra di Iachini riesce a vincere quasi sempre. Trieste ed Avellino sono due eccezioni, due pareggi che qualche tifoso, troppo esigente, non digerisce. Il 23 febbraio, dopo l'1-1 in Irpigna, il Chievo è primo in classifica da solo, con un punto di vantaggio sul Bologna, sconfitto 2-0 a Brescia. È la prima volta che i gialloblu si trovano soli in vetta. Le forse mostrano di soffrire un po' di vertigini. Infatti arrivano altri due pareggi che frenano, ma solo per poco, la corsa promozione dei gialloblu. Modiglia e Lecce al Bentegodi fa tutto Morganti, che assegna un rigore inesistente alla squadra di Papadopule sul 3-1 per il Chievo. Gialloblu padroni del campo per un'ora, Salentini fatti rientrare in partita dall'arbitro. Pareggiano e sfiorano il clamoroso successo nel recupero. Squizzi questa volta fa il miracolo e neutralizza il rigore di Abruscapo. Arimini finisce 0-0 con il Chievo in difficoltà nella ripresa, nonostante la superiorità numerica. Dopo 29 partite e tre pareggi consecutivi, i gialloblu di Iacchini si ritrovano al terzo posto, dietro al sorprendente Albinoleffe a Bologna. Ma la vetta della classifica e dunque la promozione diretta è lì, a portata di mano. Il 15 marzo al Bentegodi arriva l'Ascoli, una delle formazioni più in forma. Il Chievo stravince grazie ai suoi cannonieri, Pellissi e Dobinna. Tre punti che riportano i gialloblu primi da soli. Ma la classifica è cortissima in testa, mancano ancora 12 partite e molti scontri diretti. Il più atteso è in programma al Bentegodi, sabato 12 aprile. I gialloblu arrivano da tre vittorie consecutive ottenute contro Piacenza, Albinoleffe e Messina. Sono primi con 72 punti, mentre il Bologna insegue a meno due. Il Chievo parte forte ma non passa, segna a sorpresa il Bologna con Vagliani, rimedia Pellissiè. La squadra di Arrigoni fa capire che il pareggio è un buon risultato, i gialloblu di Iechini evitano rischi inutili e accettano il punto. È il momento più importante della stagione, al Bentegodi arriva Brescia di Cosmi, che viene liquidato con un sonoro 3-0. A Pisa la serie positiva continua con un buon pareggio, mentre il Bologna cade clamorosamente sul campo dell'Albinoleffe. Ecco la classifica al 37esimo chilometro, dunque a cinque giornate dalla fine. Chievo 77, Albinoleffe 74, Lecce 73, Bologna 72. 3 maggio 2008, al Bentegodi arriva lo Spezia in cerca di punti salvezza. Il Chievo è una schiaccia sassi e rifila un pocherissimo alla formazione Ligure. Doppietta di Pellissiè, gol di Marcolini, rigore di Obin e poi Bentivoglio. Unico neo, l'infortunio alla spalla del capitano. La classifica sorride giallo-blu anche dopo il capo di misura di Mantova, che interrompe la serie di 20 risultati utili consecutivi. Pellissiè a bordo campo con il tutore, Chievo sconfitto ma sempre primo. Visto che il Bologna viene battuto 3-0 sul campo del Grosseto, l'Albinoleffe perde 4-0 in casa con il Lecce e con identico risultato, il Brescia, che potrebbe rientrare nella corsa per i primi due posti, viene sconfitto dall'Ascoli. Non poteva esserci sconfitta più in dolore per il Chievo, che resta primo con 3 punti di vantaggio su Albinoleffe e Lecce, mentre il Bologna scivola addirittura a meno 5. Clamorosi anche i risultati della terz'ultima giornata, il Lecce che perde in casa con il Bari, l'Albinoleffe sconfitto ad Ascoli, vincono Chievo e Bologna, il giallo-blu 2-1 con il Vicenza e il rosso-blu 3-0 con il Messina. E così la classifica, quando mancano due giornate al termine, vede il giallo-blu primissimi con ben 5 punti di vantaggio su Bologna e 6 su Albinoleffe e Lecce. Basta un punto a Grosseto per fare festa e il punto arriva. Basta un punto all'ultima giornata con il Bari per il primo posto e anche in questo caso il Chievo non fa nulla per vincere, ma tutto per pareggiare. Poi c'è solo spazio per i festeggiamenti in campo e fuori, nel parcheggio di Biassogare. Siamo sulla buona strada e il Ceo al vola in alto, tutti i giorni l'ha scritto, ci avare a mai dito. I Mussi vola in alto su tutta la città, un volo comincia con il Dermi in Serie A, tutto un quartiere in festa, tutti i giorni l'ha scritto. Ci avare a mai dito, sei tornato in Serie A. Avare a mai dito, sei tornare in Serie A. Ci avare a mai dito, sei tornato in Serie A. Ci avare a mai dito, sei tornato in Serie A. Mi deve l'aveva dito, sei tornato in Serie A. Grazie a tutti